Ciao ragazzi, oggi continueremo con l'analisi dello stato di forma di tutte le squadre da Serie A trovate la prima parte di questa analisi qua sopra perciò se non l'avete ancora vista, correte a vederla e dopo tornate a vedere la seconda parte che si terrà in questo video. In più, andremo a vedere quali giocatori potranno rendere bene e quali meno bene per quanto riguarda le rimanenti 4 partite per il mese di dicembre. Iniziamo subito? Ciao, sono Federico Viglino e questo è Profantacalcio. La prima squadra che analizzeremo oggi è quella del Bologna una squadra che ha saputo fornire un andamento delle prestazioni altalenanti e nelle prossime 4 partite se la vedrà contro Roma, Spezia, Torino e Atalanta. Due partite abbordabili e due invece più complicate. I giocatori da evitare, i giocatori freddi per questo periodo sono Skorufski, Tomiasu, Iki e Sansone mentre i nomi caldi sono Soriano, Barrow e Palacio. Una squadra che invece sta facendo meno bene delle aspettative è sicuramente l'Atalanta una squadra che soffre il doppio impegno, campionato Champions e anche forse un eccessivo turnover attuato da Gasperini. La squadra perciò proverà a ritrovarsi in campionato nelle prossime partite e proverà a farlo contro Fiorentina, Juventus, Roma e Bologna. I nomi freddi per questo periodo sono quelli di Ilicic e Paslic mentre i nomi caldi sono quelli di Papu Gomez che deve ritornare a prendersi in spalla la squadra e condurla per mano verso prestazioni migliori e Zapata che dovrebbe ritrovare la condizione migliore tra dicembre e gennaio. Per quanto riguarda l'Atalanta ho fatto anche un'analisi pazza furiosa del suo rendimento per quanto riguarda queste prime partite e la puoi trovare qua se non l'hai ancora vista. Passiamo ora all'Ellas Verona una squadra che non smette di stupire contrariamente a molti pronostici anche io ti dico la verità sono rimasto molto sorpreso ma questo si deve principalmente al gioco di Ilic e al fatto che ci sono giocatori predisposti a crescere secondo il credo dell'allenatore. Lazio, Sampdoria, Fiorentina e Inter sono le prossime avversarie dell'Ellas un calendario non semplicissimo ma neanche proibitivo per quanto ho fatto vedere finora dalla squadra del Verona per quanto riguarda i nomi freddi ti dico le punte ossia Kalminic e Di Carmine per quanto riguarda invece i nomi caldi sicuramente Zaccagni e i due esterni ritrovati ossia Faraoni e Lazovic. Passiamo ora a parlare della Lazio una squadra ormai ben collaudata dal punto di vista del gioco ma che ha sofferto più del dovuto il doppio impegno campionato Champions e la situazione Covid. Per quanto riguarda il calendario la Lazio dovrà vedersela con Verona, Benevento, Napoli e Milan. Partite perciò abbastanza difficili per quanto riguarda la compagine bianco celeste ma che ci daranno una prima reale impressione della forza e del valore di questa squadra per quanto riguarda il campionato 2020-21. I giocatori freddi da evitare sono Stracoscia, Lukasleva e Correa mentre quelli sicuramente più in forma che potranno continuare a fare bene sono Immobile e Milinkovic-Savic. Parliamo ora della Roma una squadra ormai con identità di gioco ben collaudata da quando è passata al 3-4-2-1 è una squadra veramente temibile anche se ultimamente si è resa artefice di un paio di passi falsi. Il calendario ci dice che i prossimi avversari della Roma saranno Bologna, Torino, Atalanta e Cagliari sicuramente degli avversari abbordabili. I giocatori un po' in flessione di rendimento sono Pedro e Comboulat mentre quelli su cui puntare per il mese di dicembre sono Mirante, Spinazzola, Michi Italian e Zeco. Passiamo ora a parlare del Sassuolo una squadra che ha ben impressionato in questo inizio di campionato salvo poi avere una leggera flessione dal momento in cui gli è venuto a mancare il centroavanti titolare ossia Ciccio Caputo e la riserva designata ossia De Frel una squadra che così ha dovuto un po' reinventarsi nel gioco offensivo senza un vero e proprio terminale e per questo ha sofferto un po'. Le prossime quattro gare si svolgeranno contro Benevento Fiorentina, Milan e Sampdoria tre gare su quattro appaiono abbordabili per quanto riguarda i nomi freddi del Sassuolo vi dico gli esterni difensivi Maxime Lopez a centro campo e Ciccio Caputo in quanto convalescente dalla pubalgia è sempre difficile riprendersi in tempi brevi al 100% i nomi invece su cui continuare a puntare sono Berardi e Locatelli parliamo ora della Juventus una squadra in piena rivoluzione che sta ancora costruendo il proprio sistema di gioco e per questo sta portando risultati altalenanti il prossimo calendario non sembra proibitivo contro Genoa, Atalanta, Parma e Fiorentina i nomi freddi da evitare sono Di Bala e Rabiot mentre quelli su cui scommettere sono Cesni, Quadrado, Morata e ovviamente Cristiano Ronaldo passiamo ora a parlare del Napoli una squadra che sta veramente facendo bene nelle ultime partite di campionato e che appassa in ottima forma il calendario prossimo prevede incontri contro Sampdoria, Inter, Lazio e Torino che testeranno le reali ambizioni di Scudetto dei Paternopei i nomi freddi per il mese di dicembre sono Mario Lui, Di Lorenzo e Osimène per quanto riguarda invece i nomi caldi sono Coulibaly, Manolas e un ritrovato in signe passiamo ora a parlare dell'Inter una squadra che ha avuto qualche piccolo problemino iniziale ma che comunque ha un'ottima media di rendimento e quindi di punti che grazie all'accantonamento dell'uso del trequartista si è ritrovata grazie al più contiano del 3-5-2 il calendario recita Cagliari, Napoli, Spezia e Verona è un calendario abbordabile anche se si tratta praticamente di tutte squadre in forma Kolarov, Young ed Eriksen sono i giocatori freddi mentre De Vrij, Brozovic e Lukaku sono i giocatori caldi per il mese di dicembre per ultima ovviamente parliamo della squadra più in forma del campionato nonché della capolista ossia il Milan Parma, Genoa, Sassuolo e Lazio sono le prossime contendenti per quanto riguarda la squadra di Milano i giocatori freddi per il mese di dicembre sono Benazer, Diaz e Rebic Rebic non lo schiererei finché non si sblocca perché potrebbe fare come lo scorso campionato che ha messo un bel po' di tempo prima di carburare mentre i giocatori più in forma che continueranno a fare bene sono Donnarumma, Kessier e Ibrahimovic e tu? Quali giocatori vedi bene per questo Tour de Force dicembrino e quali invece eviterai di schierare perché secondo te non in condizione non in forma? scrivilo qua sotto nei commenti io ti invito come sempre a lasciare un like se il video ti è piaciuto a iscriverti al canale e attivare la campanella per supportare il canale e per rimanere sintonizzato su tutti gli altri contenuti noi ci vediamo al prossimo video ciao